Onda Energeti, Onda Energeti E la porta si è chiusa per sempre Troppo bella la musica di sottofondo Che succede? Che ci fa qui? Adesso vanno a fare sesso Kairi! Sora! No! Kairi! Ricordi cosa hai detto prima Anch'io sarò sempre con te Tornerò, lo prometto So che lo farai Bellissima la musica di sottofondo Oh, sta tornando l'isola Che succede? La fine... È la fine del mondo? Ah no! È vero che è nel 2012 Ma comunque che cos'è? E poi è tornata l'isola Però io non ci sono Ciao Scusate Scusate Tutti bene ragazzi Modalità standard Of Si E così comincia il primo livello di King of Heart 2 Dove c'è qui Razzel Razzel Il nuovo Un nuovo personaggio della serie Frammenti di sogni che sembrano ricordi lontani Ricordi lontani che sembrano frammenti di sogno Voglio allenare i pezzi I tuoi e i miei Anche qui la musica di sottofondo è bella Qui c'è Cari che... Ah, il portafortuna Qui c'è Sora Ricco Cari Cari si è vaporizzata E pure Ricco si è vaporizzato Anzi no, si è polverizzato Bellissima la musica di fu... No, l'ho già detto Che ha fatto King of Heart 2 è un mito Anzi no, si è polverizzato 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 dai scherzo oh che teneri c'è cari che ci guarda c'è cari di profilo c'è cari da dietro c'è il mare poi c'è cari di profilo ancora ma è possibile che questa videocamera non filma sempre solo cari c'è Sora che sta per sparire oh no Sora è morto c'è cari che si polverizza di nuovo ed è diventata adulta c'è Nami c'è la bocca di qualcuno quella è Nami che manipola i ricordi c'è Sora che distrugge gli Headless c'è Pippo che schiaccia gli Headless c'è Pippo che distrugge gli Headless c'è Pippo che distrugge gli Headless c'è Funne che distrugge gli Headless c'è un tizio dell'altro tizio c'è un tizio con la falce che non ricordo come si chiama poi cerca di combattolo poi era Marco Awesome e non ci capisco più niente c'è Sora che corre c'è Sora che corre no era Pippo no era Pippo no non ci capisco più niente c'è ancora Nami c'è Sora Sora vuole fare sesso con Nami oh cavolo qualcuno sta richiedendo Sora e una bolla maledita Nami sei stata te e Sora viene richiuso e muore sto per morire no non può essere Sora sta volando lì sta volando è stato appallato via qui si potrebbe saltare il filmato ma non voglio c'è Sora e Carrie c'è Sora e Carrie c'è Sora e Carrie c'è razza che sta cadendo nell'acqua c'è razza che vuole fare il... com'è che si chiama? il... tuffo nel cuore ma dato che non ce l'ha non può farlo c'è razza che si guarda in giro c'è razza che si guarda in giro e ci sono un sacco di uccelli che volano via chissà quanto sarebbe felice il mio gatto c'è razza che guarda gli uccelli che volano via c'è... perché sto sp... c'è il sole no è una luna scusate si si va bene va bene saltiamo perché sennò non riesco a fare il gioco e quindi dopo aver parlato a Valvera per tutto... per tutta l'introduzione del filmato ora... ora saltiamo e quindi adesso... io non ho il finale Mizz quindi mi dispiace si 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 va bene va bene va bene va bene ok entriamo... andiamo da questo negozio andiamo inizio a questa indagine saltiamo il filmato adesso dobbiamo parlare con questa prostituta del viale non so neanche cosa ho detto ma me ne frego si 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 va bene va bene saltiamo e quindi però le povere hanno rubato delle foto... c'è uno che... c'è un ladro che ha rubato le foto e quindi adesso... e tutti accusano... dovrei... dovrei cercare quel gatto... ah... giusto... dimenticavo... e il gatto magicamente si indeggiu... forse sa il teletrasporto... di Goku si 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 va bene va bene va bene va bene e quindi adesso dobbiamo sfidare questo Cypher raccogliamo ecco se è più calmo difesa più uno e vai ora dobbiamo pestare Cypher ora ti massacro di brutto no parato combara colpito basta con i giochetti combatti ahah mi stai sfidando fatti sotto allora tanto lo sconfiggio io in due secondi neanche no dai scherzo uuuuuh ma tanto non... aia e ora muori e ora... bye bye no dai coraggio ecco fatto e quindi possiamo vedere Cypher che si... Cypher che si inginocchia di fronte ma Cypher non si sente molto in forma il trono deciderà adesso facciamo questa foto però nessuno ce la ruba oh no ho fatto dello spoiler devo stare zitto comunque adesso gli sbacchiamo la faccia il ladro è quello che ci ha rubato le foto e anche la parola foto cor 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 dai su sbrigati non dovremmo inseguire ma siamo stati più veloci quindi adesso andiamo lì triangolo sempre sigillato sto guardando il nessuno idiota di un razzes e quindi adesso dovremmo cercarli di spaccare la... di... ma purtroppo la nostra... arma non gli fa niente quindi quello che spaccherà la faccia sarà lui purtroppo haha schivato haha aia mi ha dato un... un doppio calcio nelle chiappe mi piace come si contorce quando fai i movimenti altro che comunque filmato vuoi partire? forse lo devo colpire un po' ah ecco ora guardate che succede è inutile che fu... la... e vai la mia arma è diventata 50 volte più figa e ora rompiamo il sedere a questo ente nessuno voglio dire e... e guardate che succede e non è 50 volte più bella ma anche 50 volte più potente no esagerato comunque adesso lo uccidiamo ecco fatto ti ha fatto male stavolta? no no non si è morto questa volta l'uccido ecco si è polverizzato nell'aria mentre prima non gli facevo neanche... non gli facevo niente insomma e quindi sono arrivate le... sono spuntate le foto oh my god scusate ma devo interro per qui saltiamo questi ricordi e qui finisce un altro livello di... kink